Ciao a tutti da Mestici Splendida, questa mattina abbiamo fatto il cambio di cabina perché abbiamo fatto due settimane in back to back, la stessa cabina non era disponibile. Questa è una cabina con balcone, stati organizzati molto bene, alle 10 e mezza avevamo già la stanza pronta e i bagagli già in cabina, ho dimenticato il caricabatterie e mi è stato anche messo qua insieme al resto. Cabina spaziosa, poi sono da solo per cui ci sto comodissimo, mascherina posso toglierla perché sono da solo, divano col tavolino per fare colazione comodamente, è il balcone che nella suite con vetrata un pochino mi era mancato, era molto bella ma poter uscire fuori è sempre meglio. La vista sul porto di Bari, sono sotto il ponte di comando che stanno pulendo, buon inizio e crociera di nuovo.